Sabato a Francavilla al mare si terrà la festa gay d'Abruzzo, un evento organizzato per contrastare l'omofobia. E' questo il significato di questa manifestazione? Sì, praticamente Canal G Television, che è la televisione, la onlus che organizza questi eventi in tutta Italia, ha scelto proprio l'Abruzzo come sede di questa manifestazione importante che partirà sabato 25 e poi continuerà per tutta la stagione invernale, sempre nella stessa location che a Francavilla al mare, in Villa Paola, che è una villa esclusiva dove si fanno delle manifestazioni importanti. Diciamo che veramente l'obiettivo è quello di contrastare l'omofobia perché ne abbiamo veramente bisogno in questo momento. Quindi sarà una festa molto particolare con degli spettacoli, degli show, avremo un ospite d'eccezione che è Mister Gay Italia 2021, che è stato appena eletto, quindi il più bello d'Italia, gay, e questo diciamo che è l'obiettivo della nostra manifestazione. Possiamo dire che proprio sabato prossimo inizierà la stagione, chiamiamola così, invernale, degli eventi che voi organizzerete nel corso dei prossimi mesi? Sì, diciamo che sabato sarà un assaggio, poi ripartiremo il 30 di ottobre con un evento enorme e poi tutti i sabati a seguire, per tutta la stagione. Un evento contro l'omofobia, questo è un problema di cui tanto si parla nel nostro paese? Sì, è un problema che ovviamente riguarda un po' tutti perché comunque noi vogliamo contrastare qualsiasi atto di violenza nei confronti di tutti, anche delle donne, dei disabili, tutti quanti, non è soltanto un discorso che riguarda la nostra collettività, ma tutta la società, diciamo. Quindi credo che un evento del genere sia molto importante per ricordarcelo, non dimenticarlo e perché è giusto che comunque tutti abbiano il diritto di amare, di vivere liberamente.